Nel video di oggi purtroppo mi lascerò con il mio fidanzato e io vorrei conoscere qualcun altro Ma Serena non sarà affatto d'accordo, chissà perché, nel mentre conosco un ragazzo su internet e... Guardate il video per scoprire cosa succede Ma ciao a tutti amori e benvenuti in questo nuovo video Io come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche Serena, ti ricordi il ragazzo con cui mi stavo frequentando? Certo che mi ricordo, Georgia, quello con cui sei uscita un paio di volte, giusto? Esatto, lui Beh, abbiamo deciso di lasciarci Ma no, come mai avete preso questa decisione? Sì, purtroppo è successo, mi ha tradita A me, alla fantastica principessa Georgia Quel... Mi dispiace tantissimo, Joe Vogliamo mangiare un gelato per colmare questa delusione No, grazie, Serena Ma purtroppo ho lo stomaco chiuso, non riesco proprio a mangiare Mi dispiace moltissimo, Georgia C'è qualcosa che posso fare No, purtroppo, devo trovare un altro fidanzato per stare bene e sereno Non sono d'accordo Un ragazzo ti ha fatto stare male e tu che vuoi fare? Ne vuoi cercare un altro? Ma solo così posso stare meglio Mi piace stare meglio senza fidarti di me Beh, non ti premano nulla E invece mi ascolterai Senti, se è fatto tardi, meglio che vada a casa Va bene, Serena, allora ci vediamo domani a scuola A domani e non fare cose di cui poi ti penti Tranquilla, Serena, so badare a me stessa Sì, come no A domani Ragazzi, mi annoio proprio Sapete che cosa faccio? Adesso mi spengo le luci e mi metto Aiuto che buio E mi metto sul divano a guardare qualche video su YouTube A guardare qualche video su YouTube Solo così posso distrarmi e non pensare a quello che mi è successo Non che poco fa è stato inquietante questo divano Ehi, una notifica Ma chi è a quest'ora? Un certo principe azzurro E che vuole questo? Bah, fatemi rispondere Ciao, chi sei? Allora, risposto ciao, sono Mickey Ho visto il tuo profilo e mi sono chiesto se avessi voglia di fare due chiacchiere Ciao Mickey, grazie per il messaggio Come mi hai trovata? Ti ho trovato in un server di Brookhaven Beh dai, mi serviva proprio parlare con qualcuno per distrarmi Ah, ma che ore sono? Cavolo è tardissimo, faccio tardi a scuola Andremo a muovermi Sono stata tutta la notte a parlare con quel Mickey È un ragazzo molto interessante Sembra che abbiamo molte cose in comune Non vedo l'ora di raccontare tutto a Serena Però non devo perdere tempo in chiacchiere Perché in questo momento sto facendo tardi a scuola Giorgia? Oddio, che cosa c'è mamma? Perché sei ancora qui e non a scuola? Mamma, ieri sera ho dormito tardi e mi sono svegliata tardi Scusa mamma Sei sempre la solita Dai, ti accompagno io che già è tardi Non vorrei che questo vada ad incidere sul tuo rendimento scolastico Fantastopendo, grazie mamma Ma non voglio più che fai tardi, sia chiaro Te lo prometto mamma, stavolta è stata solo un'eccezione Mi raccomando, fai la brava Segui le lezioni e non far arrabbiare i professori Sì mamma, grazie del passaggio, ora corro Ok, sono arrivata Eccomi qua Giorgia, a quest'ora? Sì, ieri sera ho fatto tardi e stamattina non riuscivo ad alzarmi Ma la prof ancora non è arrivata? Ancora no, sembra che si sia preso l'influenza e oggi non riesce a venire Ma come mai hai fatto tardi? Ora ti racconto Praticamente, mentre ero sul divano a guardare YouTube Improvvisamente mi arriva un messaggio da un certo principe azzurro Così gli ho risposto E sai, ho trovato questo ragazzo molto interessante Come un altro ragazzo Giorgia, cosa ti avevo detto ieri? Eh, lo so, scusa, ma con lui è diverso Abbiamo tante cose in comune Secondo me è il ragazzo perfetto Ah, ne sei sicura? Non è che lo fai solo per dimenticarti dell'altro ragazzo No, no, lui è perfetto Abbiamo tutto in comune E se dico tutto È tutto Sei un bravo ragazzo, allora sono felice per te, Gio Ti aggiorno quando sono a casa Va bene, Giorgia, ma mi raccomando, stai attenta Ti ricordo che sono la fantastica principessa Giorgia Io sto sempre attenta Sì, come no Comunque non viene la prof, forse verrà una supplente Speriamo, perché non ho studiato niente Come mai non è da te? Ho fatto tardi ieri sera e non ho avuto tempo di studiare Ma come tardi? E perché? Prima di tutto era da te Poi quando sono tornata mi sono presa a giocare a The Sims sul computer Ok, ma tu studi sempre? Mi sembra strano Ogni tanto ho bisogno anche io di staccare un po' Va bene, se lo dici tu Buongiorno ragazzi, scusate il ritardo Oggi interroghiamo subito tutti Oh no, ditemi che è un brutto incubo Cavolo, ma non che io ho studiato Karma Comunque hai ragione Serena, ci stavo pensando stamattina Ed è meglio che non mi metto con nessuno per ora Ah, finalmente mi hai ascoltata Sono felice che mi hai diretta per una volta Sì hai ragione, mi rendo conto che forse sto cercando qualcosa che non è ancora il momento di trovare Esatto, e poi c'è tutta una vita davanti a noi per incontrare persone Ma io concentrarsi su noi stesse Beh che dici, stasera ci sei? Non credo, devo aiutare mia mamma a lavare i piatti Ma come? Non l'hai mai fatto? È perché sono tanti piatti stavolta Non me la racconti giusta Giorgia Vabbè ci vedremo un altro giorno allora Facciamo forse domani Perché forse? No, così, non voglio darti conferma subito e poi non esserci Va bene dai Ragazzi ho detto una piccola bugia serena che stasera devo aiutare mia mamma Voglio sentirmi con quel ragazzo che mi sono sentita ieri Secondo me può essere una cosa seria Ma per ora voglio che sia una cosa segreta fino a quando non sarà una cosa ufficiale Ora vado al pc e gli scrivo Bene ragazzi gli ho scritto se possiamo vederci domani Ma lui mi ha detto che non poteva Che barba Giorgia ma che stai facendo tutto questo tempo al pc? Mi prometti che non lo dici a nessuno? Dai dimmi tranquillo magari ti posso aiutare Beh c'è questo ragazzo con cui mi sto sentendo ma non vuole uscire con me Che cosa faccio Federico? Fammi vedere Beh è strano che un ragazzo con cui ti senti agli interessi non vuole vederti Fammi vedere un po' il profilo di sto qui Va bene guarda è lui Ti dico già io conosco tutta la città e non ho mai sentito uno che si chiama Principia Azzurro e di nome Michi E quindi mica puoi conoscere tutti no? Hai ragione ma un altro punto di allarme che ho è che il profilo è stato creato stesso ieri Cavolo è vero è stato creato proprio ieri sera e subito dopo mi ha scritto Che strano sarà il mio ex fede secondo te Non credo devo controllare i suoi amici e seguiti per avere più informazioni Il cavolo è? Dimmi chi è dai non tenermi sulle spine Non posso dirtelo fare un macello Federico ora me lo dici se no dico alla mamma che tu te le seresci dalla finestra di casa senza permesso Però promettimi che non farei il mio nome io non ti ho detto niente ok? Sì ok però dimmi chi è? È la tua amica serena Cosa? E perché? Che ne sai che è lei? Facile è l'unica persona che ho tra gli amici e lei È la base per scoprire di chi è quel profilo fake E perché mai la mia migliore amica mi avrebbe fatto una cosa del genere? Perché ne so io mica ho la sfera di cristallo Ora vattene che devo pensare Mi devi un favore comunque Vattene! Sì sì ok principessa Ragazzi perché mai serena mi avrebbe fatto una cosa del genere? Scrivete nei commenti la vostra idea Oh cavolo ora risulta anche una bugiarda per serena Visto che sa che non ho lavato i piatti oggi e mi sono E mi sono stata tutto il tempo a scrivermi con il ragazzo Cioè lei Ma anche lei è stata una bugiarda visto che ha fatto un profilo falso per scrivermi Voglio sapere proprio perché l'ha fatto Devo trovare serena Mi deve dire perché ha fatto quel profilo falso per scrivermi Ah ecco oggi serena guardate come si diverte Ora mi diverto un po' io Ciao Giorgia come è andata la pulizia dei piatti? Bene molto bene E ora dimmi perché hai fatto quel profilo falso per scriverti con me Che profilo falso non so di cosa tu stia parlando Sì come no con mio fratello Federico abbiamo indagato su Mickey e ho scoperto che sei tu Cosa Federico? Cavolo non dovevo dire che è stato lui ad aiutarmi Ma vabbè questo non c'entra Ma perché mi hai fatto una cosa del genere? Piuttosto tu mi hai detto una bugia Sì ma la tua è più grave Va bene ti dico perché l'ho fatto in buona fede Non volevo che ti sentissi con qualcuno perché avevo paura che dopo avessi un'altra delusione Ma serena non dovevi L'ho fatta solo perché ci tengo a te come amica Scusa se ti ho detto una bugia Scusa te lo devo dire io Mi dispiace tantissimo Facciamo una cosa stasera per dimenticare tutto che dici Pijama party e crepes Va bene è un'ottima idea Andiamo a casa tua che devo dirgliene quattro prima a tuo fratello che ha portato spia Va bene allora prendo anche dei popcorn per godermi la scena E niente ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Iscrivetevi se ancora non lo siete E attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica dei video Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao